Nel 1863 la sorella di Degas, Teresa, sposa suo cugino di primo grado Edmondo Morbilli che vive a Napoli. Questo maestoso ritratto è stato probabilmente dipinto nel 1865 durante la vista della coppia a Parigi dopo la perdita di un figlio atteso nei primi mesi del 1864. Teresa siede letteralmente e figurativamente all'ombra del marito e Degas contrasta l'espressione preoccupata della sorella con l'atteggiamento rassicurante di Edmondo. L'artista realizza i loro vestiti con i toni del grigio, del nero e del marrone che emergono dai drappeggi ocra e grigi dietro di loro e dal tessuto islamico riccamente decorato che copre il tavolo, il che ci ricorda i ritratti del rinascimento italiano. I due soggetti sono in posa ma sembrano comunque colti in espressioni e atteggiamenti che ne definiscono le caratteristiche di personalità. Teresa si porta una mano al viso e con l'altra sembra cercare rassicurazioni dal marito, poggiandogliela sulla spalla. Edmondo ci guarda con fare disinvolto, tranquillo e sicuro di sé, un braccio appoggiato allo schienale della sedia e l'altro al tavolino. La pennellata cambia a seconda del dettaglio o della zona del dipinto interessata. Se è minuziosa nel definire particolari anatomici come le mani di Edmondo o il volto di Teresa, si fa più veloce, larga e mossa quando si tratta di definire lo sfondo o gli elementi d'arredo della stanza in cui le due figure sono ritratte. Questa è una caratteristica che l'artista affinerà e che porterà a maturazione nella raffigurazione delle sue ballerine. L'occhio indagatore dell'aristocratico Degas qui però è interessato al disvelamento del multiforme microcosmo popolare della metropoli francese attraverso una serie di ritratti che come questo mettono in risalto personalità e psicologia delle persone ritratte. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!